Cristina Marino è fiera del suo corpo che cambia. Incinta per la seconda volta. Posa per Vanity Fair, la prima foto col pancione la immortala sensuale e bellissima con indosso una tutina aderente che mette in evidenza le sue forme da mamma. L'attrice imprenditrice 31enne aspetta un altro bebè dal marito Luca Argentero. 44 anni. I due sono già genitori di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. Innamoratissimi. Non hanno mai nascosto il desiderio di diventare ancora genitori. In tante interviste passate Cristina e Luca avevano dichiarato di volere almeno tre figli, ora arriverà il numero 2. La Marino è considerata uno dei talenti post-digitali che stanno cambiando il fashion system. Il settimanale ha voluto fotografarla insieme ad alcuni altri per il giornale. La foto è stata scattata da due professionisti della moda, Anna Dello Rosso e Giampaolo Sgura. La gravidanza, annunciata con un post su Instagram a inizio settembre, la fa ancora più accattivante e bella. Cristina Marino, recentemente, ospite a Venezia 79 dell'evento organizzato da Cosmopolitan. Ha detto, non mi ricordavo quasi più la sensazione, per cui mi sto riabituando a questo cambiamento. E' stata contenta di aver reso pubblica la dolce attesa, ora che l'ho detto pubblicamente sono più serena. Lo dico con brutale sincerità, l'erotismo è una questione visiva, di corpo. Amarsi e piacersi. Che è l'unico modo per piacere all'altro quando comunichi di essere incinta è più facile accettarsi. Anche nel corpo che cambia. E io, che con questo corpo e con la comunicazione ci lavoro. Ti dico che è strano. Non puoi dire a nessuno che sta avvenendo dentro di te questo cambiamento bellissimo. Forse il più bello di tutti. Grazie. 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 Grazie.